Salve a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in questa nuova recensione horror E sta arrivando Halloween eh? E vi porto un po' di film horror E parliamo di questo Best Wishes to All Spero l'ho pronunciato bene Film giapponese portato da Brian Pictures in esclusione su Amazon Prime Beat Se non ho capito, è stato caricato su Prime, sul catalogo Halloween E cercherò anche di farvi una top proprio di Amazon Nel senso di film horror da vedere lì Per Halloween Senza abbonamenti di altri canali Proprio avete Prime Video e vi consiglio dei film lì Ma non siamo qua per parlare di questo Parliamo di questo film horror giapponese Era un bel po' di un film giapponese horror E le mie aspettative erano alte Sono state soddisfotte Sì e no E ora lo scoprirete perché La trama è qualquanto semplice Ovvero abbiamo questa nuova sopranista Che va a trovare i nonni Vediamo che ha questo incubo a inizio film Lei da piccola Che vede uno strano individuo all'interno di questa stanza Che non ha mai aperto E quindi ha questa curiosità di andare in questa stanza A vedere cosa si nasconde Dopo tutti questi anni è rimasta ancora traumatizzata Nel senso che non sa se è reale ciò che ha visto O era tutto frutto della sua immaginazione Quindi la nostra unista va E incontra i nonni Sembrano dei bravi nonni Fin quando iniziano a comportarsi In modo strano E vi farò un po' Le scene per Per evitare copyright E cose Ve le Ve le Faccio vedere io le cose C'è tipo il nonno Che si mette a fare il maiale A tavola Insieme alla nonna E lui dice Che cazzo sta succedendo Quindi è un film molto Al no sense Nel senso Che i film giapponesi Bisogna vederli per quello che sono Nel senso che Succedono cose strane Che poi vengono un po' spiegate Che sono buttate lì a cazzo Però verranno spiegate Secondo me era giusto Portare il suo film horror In Giappone Perché Dopo tutti questi Americanate Trasferimenti E il fantasma E l'oggetto maledetto E questo e quello Meno qualcosa di diverso Ce lo buttiamo Come il nonno Che in corritorio Rimane a te E si Fanno queste Queste facce Si mettono anche a fare così Diciamo che Ci sono dei momenti Un po' cringe Nel senso Dici Vabbè Possono fare ridere Perché noi occidentali Ridiamo Per ste cose I giapponesi Si cagano addosso Appena uno Che fa così Non lo so Però Mette inquietudine addosso Cioè queste scene Mette un inquietudine Vedere questi personaggi Comportarsi così E sono stati anche bravi Quindi la ragazza Cerca di capire Che cazzo succede Chi cazzo Sono i suoi nonni Perché si comportano così Mi ha fatto un po' E pensare Il film Di M. Night Shyamalan Ovvero The Visit Me lo fece Me l'ha fatto un po' Pensare Ma poi Quello che è pensato Ovvero che Che ne so Non vi voglio far spoiler Di The Visit Però Chi ha visto i film Sa E quindi ho detto Bah forse forse No invece no Sono proprio Non i suoi Quindi Lei inizierà A farsi tante Pippe mentali Il problema è che il film Dura anche poco Cioè questo è un film orientale Dura un'ora e ventinove Però percepiti Per tutte queste cose No sense Sembrano Duecento minuti Non vi scherzo Da novanta Passa duecento Dici perché Cazzo Sembra così Noioso E lento Per tutte queste Scimità Che succedono Nel senso Tutte queste cose Che ora diranno Ma come dire scimità Perché sicuramente Tutti il pubblico italiano Che vedrà sto film Ci si faranno Le risate sopra Non penso che Saranno lì A fare A tremare Dalla paura In un angolo Della stanza Lo perculeranno Questo film Io già lo so Perché conosco Le persone Lo dirici Imo Ma io non sono così Eh ma Il novanta Anche più per cento Prendono per il culo I film Io non mi sono messo Più di tanto A rite Nel senso Che c'era salvo Qualc'altro amico Allora ci si Spara quattro Minichiate Sì ho fatto Qualche Considerazione Ma Niente di che Ritornando Alla fotografia Anche lì Mi è piaciuta Cioè Ci sono momenti Molto belli Tutti questi Ci fa vedere La natura E poi ci sono Momenti marci All'interno Della casa Perché succedono Cose strane E ci sono anche Momenti belli Tutto bell'illuminato E poi ci sono Momenti marci E sono riusciti Bene A mischiare Queste due cose È un film Che non piacerà A tutti A me Non mi è dispiaciuto Ma non dico Che sia un filmone Un film Per quello che è Nel senso Un film giapponese Horror Che cerca di portare Qualcosa di diverso E che parla anche Di certi argomenti Che non posso parlare Si parla un po' di Faccio spoiler Ma no spoiler Solo così E farvi capire Il senso Di cosa vuole Vuole appoggiarsi Questo film Ovvero Sulle simulazioni Sì Se il mondo è reale O meno Si parla un po' Di queste cose qua Un po' Passi Comprottistiche No Secondo me Comprottisti Qua Secondo me Qualcosa C'è Triesca La trovata Sto film Quindi Andatelo a vedere Lo trovate Su Prime Video Dedicateci Questi 85 minuti Circa 82 Quello che sia Ma Mi raccomando Guardatelo Con le aspettative Proprio Rasoterra Basse E ora Voglio fare Degli spoiler Quindi Se non vi interessa Rimanete Se vi interessa Andatelo a vedere Ritornate Fate quello che volete Ma Prima di chiudere Io vi invito a schiaccare Il canale A scendere A commentare Tutte le solite cose Che vi dico sempre Ma alcuni Non lo fanno Non lo so perché Parlando Degli spoiler Quindi ci vediamo Alla prossima Perché è rimasto Parlando di questi spoiler Allora si parla di simulazione Ovvero questi tizi Dignano che non sono Nel mondo reale Cioè ovvero Che è tutta una cosa Con un visore Nel senso che Tutto quello che accade In questo mondo È perdonabile Nel senso che Non è reale È tutto finto Quindi accadono cose strane Quelli che fanno I versi dei maiali Gente che si vuole fare Accettare Non su facebook Ma in testa Per far capire Che non è nulla reale La nonna Che rimane incinta Dalla loggia domani In tutti i sensi E anche qualche giorno dopo Partorirà anche E i comportamenti Di tutti i personaggi È fuori luogo Nel senso Quello che svomitazza Sangue a tavola E quello Continua a mangiare Il riso Tutto sporco di sangue Del nonno Che ha sputato E lui No 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 Mai tranquillo Lui continua a mangiare Tutto schizzato di sangue A tavola E loro mangiano E il ragazzino Che inizia a perdere Sangue dagli occhi E siccome inizia a rompere I coglioni Lo lasciano lì Gente con gli occhi Cusciti Bocche cucite Succedono tante cose Strane E non si sa Se realmente Siamo dentro Questa simulazione O meno Perché il film Finisce che lei Diventa una deficiente Come prende i parenti loro Nel senso che Si parlano De essere felice Che qualcuno Deve soffrire Per dare Compiacimento A qualcun altro Per essere felice Qualcuno Deve soffrire Qualcun altro Si parlano E dice Ma secondo te È reale Che secondo te In Africa Veramente soffrono Perché da una parte Dici Siamo nella simulazione Ma questo qua Gli hanno dato fuoco È diventato carbonizzato Prende carbonella Per farci la carne E poi è diventato Prende uno Che mette a fare Balletto Metta a fare A sare A sarà Che mette a fare Balletti A magarena Cioè Mi ho detto Ma che cosa Cazzo c'entra Perché Perché accade tutto ciò E non ci lascerà Un cazzo Alla fine Noi rimarremo Con queste domande Ce le porteremo Fino alla fine Della visione Chiuderemo i film E diremo Un film What the fuck Cioè Perfetto Un film Che dici Ma che cazzo è Che cazzo Veramente Quindi Vado andate a vedere Fatemi se per la vostra Se avete capito qualcosa Se siete riusciti A percepire Queste Questi messaggi No Che per lo più Diciamo Se qualcuno sta attendo Li va a percepire Come ho detto io No Che l'ho fatta La sofferenza La simulazione Diceva Se io crepo Io tanto mi sveglio Mi alzo Il visore Sono Forse Io qua Sono una donna Ma può essere Che lì sono un uomo Cose dell'altro Mondo Cioè quasi quasi Come nella legione Neanche esistesse Nel senso Si parla Come fossimo Tutti quanti Dentro un matrix Ecco Cioè Come fossimo Tutti un videogio C'è un momento Che quella là È sbaggata La vecchia La nonna Si inizia a sbattere Alla testa Fa avanti e indietro Ti gioca i videogio Lo sai Tante volte I personaggi Si bugano Continuano a fare Tuttavia la stessa cosa Non voglio dire nient'altro Ci vediamo sempre Al prossimo video Ciao Ciao